Mezzi al lavoro sul litorale di Villa Rosa di Martinsicuro grazie alla regione che ha stanziato 95.000 euro in somma urgenza che ha permesso di dare il via alle opere di messa in sicurezza del tratto sud nel lungomare a rischio crollo dopo le forti mareggiate del primo scorcio di stagione invernale. Lavori che consistono nel posizionare grossi massi a protezione del tratto scavato dal mare. La situazione nel tratto di Villa Rosa sud tra il primo e il secondo pennello i quali sono stati realizzati nel corso della stagione passata con le mareggiate che ci sono state hanno creato la problematica e la viabilità e quindi la nostra amministrazione ha cercato di sollecitare la regione Abruzzo nel cercare di intervenire il prima possibile. Fortunatamente la regione da quando ci siamo insediati devo dire che hanno avuto un occhio di riguardo comunque sia per la nostra situazione che è a dir quanto catastrofica per certi versi e quindi hanno stanziato questa somma urgenza per fare questo intervento. Secondo lei questi lavori risolveranno un problema o è solamente un pagliativo? Allora diciamo che in questo momento sicuramente salvaguarderanno la viabilità in quanto le mareggiate hanno prodotto una forte erosione al di sotto della passeggiata pedonale quindi per quanto riguarda la salvaguardia della passeggiata sicuramente sarà un intervento che andrà a risolvere la problematica è ovvio che non risolverà la problematica dell'erosione che abbiamo nella nostra costa nella costa terramana ma non solo quella di Martinsicuro ma parlo anche di Albatriati e quindi come dicevo prima speriamo che in prospettiva futura riesca la regione a iniziare a fare un intervento molto più consistente che possa effettivamente portare a digiovamenti.